Novena alla Madonna del Rosario di Pompei Quarto giorno, 1 ottobre Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen E a chi altri mai io dovrò ricorrere se non a te che sei il sollievo dei miserabili conforto degli abbandonati, consolazione degli afflitti. Io te lo confesso, l'anima mia è miserabile gravata da colpe, meritevoli di ardere nell'inferno indegna di ricevere grazie Ma non sei tu la speranza di chi dispera la madre di Gesù, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini la potente nostra Avvocata perso il trono dell'Altissimo il rifugio dei peccatori Solo che tu dica una parola in mio favore a tuo figlio ed egli mi esaudirà Chiedigli dunque, oh madre, questa grazia di cui tanto ho bisogno Tu sola puoi ottenermela Tu sei l'unica speranza mia la mia consolazione, la mia dolcezza, la vita mia Così spero. Amen Domandiamo a Gesù, per intercessione della Beata Vergine Maria la grazia di cui tanto desideriamo e abbiamo bisogno Salve Regina Madre di misericordia Vita, dolcezza, speranza, nostra salve A te ricorriamo noi esuli figli di Eva A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime Orsù dunque, Avvocata nostra Rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi E mostraci dopo questo esilio Gesù Il frutto benedetto del seno tuo O clemente, o pia, o dolce vergine Maria Il Signore sia con voi Vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Amen Se potete, completate la novena durante la giornata Con la preghiera del Santo Rosario Grazie a tutti